Sala consigliare del Comune di San Giustino, c'è stato un bel incontro questa mattina, parliamo del sabato mattina, ovvero poche ore prima del derby, Lama Virtus San Giustino che si giocherà allo stadio Polchi-Laurenzi di Lama domani tra due delle tre capoclassifiche. La terza è stata menzionata ma per debiti scongiuri, noi ci fermiamo qua. Sala consigliare con l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore allo sport, le società del Lama con il presidente Elio Fiorucci e naturalmente la Virtus con Stefano Fabri, e i due allenatori non manca nulla praticamente, ovvero Giacomo Del Bene e Marco Farinelli. Iniziamo con coloro che hanno ospitato e hanno avuto anche l'idea di dare questo riconoscimento. Sindaco, versione bianco-nera, così dividiamo anche il tifo per quanto riguarda, anche se poi sappiamo che l'assessore è molto Unione Sportiva San Giustino. Allora sindaco, il senso e il significato di questa mattina? Sì, stamattina cogliendo il fatto che le due società con la prima squadra primeggiano il campionato di promozione regionale, diciamo che per il comune è un vanto ma vuole essere un riconoscimento per l'attività svolta negli ultimi anni, quindi un grande impegno, una grande serietà messa in campo dalle due società che hanno dato un grande sviluppo anche al settore giovanile. Questi sono obiettivi importantissimi per quanto riguarda l'amministrazione, perché sappiamo che al campo i ragazzi ricevono un'educazione importante per la loro vita, quindi è un motivo di soddisfazione in più vedere queste due società che primeggiano con la prima squadra, ma che hanno anche un settore giovanile estremamente competitivo e importante e in crescita. Colori sociali della Virtus San Giustino? Giallo-Rossi. Ci ha pensato un attimino. Allora, è vero, sì. Allora, Massimiliano Manfroni, fa piacere da assessore alle politiche sportive poter salutare e ringraziare un movimento calcistico che guarda in questo momento con la massima espressione delle prime squadre dall'alto le altre, no? Sì, fa piacere ed è un onore essere assessore allo sport in un contesto così come quello di San Giustino, in cui avevo già trovato però in questi anni di crisi noi siamo restati in grado, attraverso il lavoro, di farlo crescere, per un movimento di giovani importante. C'è poi da sottolineare che domani San Giustino sarà una giornata, un'altra, mi vien da dire l'ennesima giornata e evento per il nostro sport san giustinese, quindi al di là della partita, al di là dello scontro agonistico, io penso che possiamo solo essere orgogliosi della nostra attività sportiva San Giustino. Domanda, d'obbligo anche per lui, cromatica, i colori sociali della Longobarda? Bianco, rosso, blu. Ok, va bene. Allora, no, no, questo era molto difficile, scusate se posso davanti. Massima espressione societaria con Elio Fiorucci e Stefano Fabri. Voi avete già detto tutto, però se vuole aggiungere qualcosa. Ok, basta così. Posso aggiungere, come già ho detto a Fabri, che soprattutto domani anziché una competizione sia anche una grande festa. Complimenti, lei ha visto Pinocchio molte volte. Benissimo. Allora, Stefano Fabri, che, insomma, anche da parte sua, fondamentalmente è una partita e oggi sicuramente è un bel momento da condividere in sala consigliare. Sì, io ripeto, quello che ho detto anche in settimana, che al di là adesso di celebrare, nonostante va celebrato questo importante riconoscimento, poi domani parleremo soltanto dell'aspetto agonistico, perché è giusto così, e anche i tifosi che vengano allo stadio, speriamo numerosi, si baseranno molto sull'aspetto agonistico e numerico della partita. Quindi è inutile adesso stare a ribadire il nostro percorso, quello che abbiamo fatto, l'importanza di questa partita. Certo, siamo orgogliosi di arrivare a questo appuntamento in testa classifica del campionato di promozione, perché siamo una società abbastanza giovane, però ripeto, adesso, per domani, conta soltanto l'aspetto proprio aritmetico dei gol fatti e dei gol subiti. Già, è più geppetto che Pinocchio. Va bene. Allora, grazie all'ausilio tecnico di Stefano Poggini e di Sante Podrini alla regia, andiamo con Giacomo Del Bene. Oggi è una bella giornata. La vedo un po' tachicardica, amista? No, no, no. Io sono sempre abbastanza tranquillo prima di giocare le partite. Dopo magari le vivo male, ma prima sono tranquillo. Quello che frega è il durante, probabilmente. No, il durante è il momento più bello, quello che ti vivi, quello per cui ti alleni. Sono delle sensazioni, delle emozioni che, sinceramente, difficili da spiegare a chi non le vive. Il problema è il dopo, qualche volta, ma ci si abitua anche a quello. Che San Giustino arriverà? È battagliero. E come giocherà? Questo, dopo la domanda, chiederà Marco, almeno si dà una risposta certa. Io mi aspetto il San Giustino che ho imparato a vedere durante il campionato, un San Giustino battagliero che non molla una palla, che corre, quindi credo che sarà una parità tosta. Allora, dato che queste interviste le faremo vedere prima della partita e anche subito dopo, poi tireremo le somme per vedere chi è stato più falso, più bugiardo, chi è stato più bravo o meno bravo, chi ha avuto più o meno fortuna. Come andremo a Lama, al di là, con i mezzi logici, passando per Pitigliano, però? Innanzitutto andremo al completo. Questo credo che sia un buon inizio. E poi, chiaramente, cercheremo di mettere in campo le caratteristiche che ci hanno portato a essere dove siamo in questo momento in classifica. Quindi noi non stravolgeremo niente, sicuramente. Per Scaramanzia qualcuno ha detto che è più forte il Ventinella, per altra situazione tu hai detto che è più forte il Lama. In questo campionato nessuno ha citato la Virtus. Ma la Virtus, io non pretendo che nessuno dica niente da Virtus. La Virtus deve solo dimostrare sul campo. Fino adesso lo sta facendo, penso, con buoni meriti. Quindi dobbiamo solo continuare così. Noi ringraziamo, naturalmente, l'amministrazione. La Presidenza è già pronta per festeggiare con i vari mezzi di locomozione. I due mister sono già agitati. Meglio di così il derby ha veramente tutte le componenti. Grazie.